Questa è stata l'ottava edizione del Carnevale, è andata benissimo come tutte le altre ma forse anche meglio perché l'afflusso di gente è stato enorme e siamo veramente soddisfatti di questa bellissima manifestazione che fa tanta allegria ed è una manifestazione nata per i bambini. Ci sono tanti bambini che si sono divertiti oggi e noi siamo molto contenti di questa situazione. Speriamo che anche un altro anno possa essere una bella giornata così e che possa coinvolgere tanta gente. Tanto è andata bene per la partecipazione di tante associazioni. Il Carnevale di Piemiteco non vuole essere un Carnevale sfarzoso con dei carri enormi come succede in tanti simpaticissimi Carnevali in giro per la nostra Italia, ma un Carnevale espresso da materiali poveri, da tanta fantasia e tanta buona volontà delle associazioni che se ne occupano. Per cui in questo senso è stato partecipato, è andato bene e ne siamo molto contenti. Grazie veramente a tutti quelli che in qualunque modo hanno collaborato. Grazie a tutti.